Comincia ora la partita, presa al volo di Massaroni, talonatore di Red Minoceto e subito al piede Negrello raccolta il volo del Romagna che ricalcia indietro presa di Negrello dentro ai propri 22 che cerca la Tuch ma non la trova Ennesimo gioco al piede del Romagna Rugby Inizio di partita con un gioco al piede, ora il contrattacco del Romagna Rugby Grazie Grazie Riprendiamo con una mischia di introduzione nocetana appena fuori dai 22 della formazione ospite Mischia nocetana che soffre però Mazzoni riesce a ripartire e guadagna metri Calcio di Albertini che coglie in preparata la formazione di caso all'estremo del Romagna Buongiorno a tutti Buono lancio di Righi Che conquistano il pallone in fondo Buono spostamento del pallone del rugby noceto Penetrazione di Caritello che macina metri Pallone perso in avanti dalla formazione ospite Riprenderemo quindi con una mischia sul metà campo All'introduzione del rugby Romagna Righi a tenere Grazie 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 riesce a tenere la mischia del rugby Noceto fa avanti il rugby Romagna e quindi Noceto può contraattaccare con Albertini raggruppamento abbastanza veloce giocata all'ala per Boccalini passaggio in avanti secondo l'arbitro mischia dentro la metà campo del rugby Romagna l'introduzione della squadra di casa buona la mischia nocetana che riesce a tenere la spinta e avanti della formazione di casa ringraziamo Carlo Mori per non essere venuto a fare la teleconaca salutiamo Bombo Saccomani che è ancora costretto a casa grazie mischia introduzione del Romagna il rugby Noceto che regge la spinta anzi riesce a guadagnare qualche metro buona la spinta del rugby Noceto che riesce a mettere in difficoltà la mischia del rugby Romagna bravi ragazzi di Noceto che hanno saputo ribaltare l'esito in mischia chiusa dopo le prime mischie un po' difficili ora è riuscito a spingere e avanzare la mischia di Noceto che hanno saputo ribaltare l'esito in mischia l'esito in mischia introduzione del Romagna vantaggio per la squadra di casa che prende il vantaggio calcio di punizione quindi vediamo ora la prima touch della gara per il rugby Romagna che conquista il pallone e imposta una molle avanzante molle che però ora si ferma ricordiamo che il rugby Noceto è un po' in emergenza in prima linea senza il pilone destro Corace e il talonatore Saccomani prima volta quindi per Chico Righi come numero tre enesima mischia della partita ora introduzione Nocetana introduce Negrello mischia che gira Noceto riesce a mantenere il controllo del pallone ora Alex Negrello con il calcio che cerca la touch contraattacco al piede della squadra di casa presa al volo dell'estremo del Noceto ma viene segnalato un calcio di punizione per il rugby Romagna calcio di punizione per la formazione di casa appena fuori dai 22 proverà quindi ad andare per i pali per cercare di mettere i primi punti in questa perdita che ruvi Il pallone c'entra i palli, quindi 3-0 per il Romagna Rugby, quindi i punti della partita per il numero 10 della formazione di casa. Presa il ballo in avanti per la formazione di casa, pallone conquistato dal Rugby Noceto, che riesce quindi ad impostare dentro la metà campo del Rugby Romagna, sposta il pallone. Palla presa da Passera, che la passa a Greco. Penetrazione di Bongiorni, pallone che ora viene spostato molto velocemente. In avanti per il mediano Negrello. Veloce l'esecuzione della squadra nocetana, ma aggressiva la difesa della squadra di casa. Mischia quindi per il Romagna Rugby. Buona la spinta del Rugby Noceto, che ora riesce a rubare il pallone. Ma l'arbitro ferma tutto, perché la mischia ha girato, quindi si rifletterà. Buona comunque la controspinta della formazione di casa. Buona la spinta del Rugby Noceto. Dopo che la mischia è girata, l'introduzione passa a Greco. Noceto. L'introduzione di Negrello, numero 9. Mischia però che colla, quindi ripeteremo questa mischia. Grazie. 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 Numerose le mischie in questa partita. Avremo già superato la decina. L'introduzione ora della squadra nocetana. Fa uscire bene il pallone. Prova a esplorare la profondità Albertini col piede. Raccoglie l'estremo del Romagna, che però viene portato in seguito fuori del campo. Ripartiremo quindi con una tush per la squadra ospita. Tush completa per la squadra nocetana. che riesce a conquistare il pallone. Buono l'avanzamento per Mazzoni. Buon movimento del pallone. Penetrazione di Guidetti che macina metri. Palla passera che trova un buco. squadra nocetana ora sui cinque della formazione romagna. E continua a amministrare il pallone. Pallone che viene spostato a largo per Guidetti. Ma il pallone viene giudicato, il passaggio viene giudicato in avanti dall'arbitro. Partiremo quindi con una mischia di introduzione del Romagna dentro ai 22. Pallone che viene pubblicato. un vero. Grazie. 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 Buona la conquista di Buongiorni. Mol impostata per il rugby nocetto che avanza. Mol che entra dentro ai 22 del rugby romagna. Pallone ora aperto da Negrello. Penetrazione del numero 10. Aggruppamento un po' lento ma calcio di punizione contro la formazione di Kaja Rugby Romagna. Entrata laterale per il Rugby Romagna. Proveremo quindi a mettere dei punti anche noi del nocetto con una trasformazione vicino ai pali. Pallone. Centrale. Pallone. 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 Fino adesso molto equilibrata, sia nelle fasi statiche sia nel gioco aperto. Presa il volo del numero 10 della Romagna che la scarica per l'ala, che prova un calcetto, raccolta il volo di Mazzoni che prova una penetrazione centrale. Pallone che viene calciato ora da Negrello, presa il volo del numero 10 del Regno di Romagna che calcia indietro questo pallone con un up and under, raccolta il volo da Negrello che la apre per Greco, che trova l'ala Guidetti che comincia una corsa, buono lo scarico per Greco. Caccio di punizione però a favore del Regno di Romagna per pallone pratenuto, non mollato dal calcetto. Tuch quindi fuori dai 22 del Regno di Nocetto a favore del Regno di Romagna. Buona la conquista in Tuch del Regno di Romagna che prova a impostare una moll, ma la scarica al numero 1 che con una penetrazione entra dentro i 22. Ennesima penetrazione per il Regno di Romagna. L'uomo che viene tenuto su. Penetrazione vicino, si ferma sui 5 metri questa penetrazione del Regno di Romagna. Che cerca ora di arrivare alla meta. Ennesimo pick and go per il Regno di Romagna. Serie di pick and go per il Regno di Romagna che prova la meta. al 25esimo del primo tempo. Capitano mio capitano, meta del numero 2, Cosso Emanuele. 25esimo quindi del primo tempo, prima meta della partita per il Regno di Romagna. Attendiamo quindi la trasformazione. 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 Un applauso speciale. Un applauso speciale a Pietro Magnani. Calcio di Albertini molto buono. presa al volo con qualche difficoltà del Regno di Romagna. Che ora calcia il pallone verso la metà campo nocetana. Buona la presa al volo di Guidetti che la scarica Greco. Che con un up and under entra dentro la metà campo del Regno di Romagna. Che ha ancora qualche difficoltà a togliere il volo. greco, placca l'ala romagnola. Pallone furtuito per il Regno di Romagna. Che riesce così a entrare dentro la metà campo. Placcato numero 2 che però fa avanti. Ma viene visto prima un placaggio non chiuso. Il Regno di Noceto. Quindi calcio di punizione. fuori dai 22. Proveranno i pali. con il Regno di Romagna. Non lo so. Se riesce così. Grazie a tutti. Peccato, è così mancato. Il pallone che non esce fuori, quindi buono il placaggio di Boccalini che riesce a impostare una molle, misca a favore del rugby noceto, buona questa aggressività da parte della squadra nocetana. Mischia a introduzione nocetana, mischia che non è stabile, crolla ancora prima dell'introduzione, reset quindi. Mischia stabile, quindi introduzione per il rugby noceto. Buona la mischia del rugby noceto che ora sposta il pallone, penetrazione centrale di Caritello, siamo al trentesimo del primo tempo. Aggruppamento veloce, buon movimento del pallone per il rugby noceto che entra così dentro la metà campo del rugby romagna. Penetrazione di Mazzoni. Penetrazione di Mazzoni. Partiremo quindi con una mischia, con una tush per il rugby romagna dentro ai 22 del rugby romagna. proveremo quindi a mettere pressione alla formazione di casa. Buongiorno, disturbo al lancio e poi Danielone riesce a conquistare il pallone che la passa a Mazzoni che entra fino ai 5 metri del rugby romagna. Buona la pressione in tush, quindi della squadra di casa, partenza di Caritello, pick and go. Dai noceto, dai! Noceto che prova quindi ad andare in metà ora ma l'arbitro ferma il gioco. Pallone che non esce ma pallone che resta in possesso della squadra nocetana quindi ripartiremo con una mischia per la formazione ospite dentro sui 5 del rugby romagna. Serve ora una buona mischia, una buona impostazione di partenza per poter cercare la meta. introduzione per il rugby noceto, mischia stabile. Calcio di punizione contro il rugby noceto, spinta storta del pinone destro della formazione ospite. No, 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 no! No, no, no! Buongiorno, buongiorno! No, non l'altro! Per un'altra cosa? No, no, no! No, no, no! Apportunità quindi che si lascia scappare il rugby noceto. Ripartiamo con una tush a favore del rugby romagna appena fuori dai 22. Proviamo quindi a mettere pressione alla tush al lancio come in precedenza. Buona la conquista da tush per il rugby romagna che prova a impostare una mola avanzante. Molche macina metri, pallone che viene aperto ora. Buona la pressione difensiva del rugby noceto che placca il numero 10 dentro i propri 22. Buona la presa al volo di Greco che la scarica passa, che la scarica Vladi. Albertino a modere il pallone per Boccalini, penetrazione centrale. Tentativo di contro-rack del rugby romagna che fallisce. Fuori gioco della squadra di casa, quindi calcio di punizione fuori dai 22 per il rugby noceto. gioco del rugby noceto. E' una posizione abbastanza centrale. E' una posizione abbastanza centrale. Buon calcio di punizione di Negrello che c'entra ai pali. e conferma quindi le buone percentuali visti fino adesso in questo campionato. Risultato quindi di 10 a 6 per la formazione locale. preso al volo delle andate ma in precedente avvenne visto un avanti per il rugby noceto. Mischia quindi dentro ai 10 metri. Sui 10 metri del campo nocetano mischia introduzione del rugby romagna. Mischia del rugby romagna che avanza e parte ora il numero 8 fermato da Magri. Buono ancora il placcaggio del rugby noceto ma c'è un vantaggio per il rugby romagna. numero 10 che prova i pali con un drop ma ci ritorna sul calcio di punizione segnalato con il vantaggio in precedenza per un fuorigioco della linea difensiva del rugby noceto. formazione di casa quindi che cercherà i pali. risultato. Risultato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un giocatore placato. Ennesima penetrazione del rugby Romagna che trova un punto nel trapposine 22 del rugby Maceto e trova anche un po' di posizione nel trapposine 22 del rugby Maceto e trova anche un po' di posizione e un po' di posizione. Si chiude così il primo tempo di Romagna Rugby RFC contro Rugby Noceto FC. Oggi nella pausa vi ricordo l'iniziativa di Movember Grovo Mo Sevo Bro fatti crescere i baffi per salvare un fratello la sottoscrizione e le donazioni allo IOR per la prevenzione e la cura del cancro. vi ricordo anche il punto shop di Rector Shire del nostro Antonio Tannaggio dove potete trovare materiale tecnico, materiale sportivo e non fare come la Camilla che prende la maglietta da tutti e non se le compra, insomma. potete anche bere con noi e assaggiare la birra PLB sponsor del Romagna RFC non si No, no, no No, no, no 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 No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Grazie. 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 Appena fuori il 22 del re di Noceto, prova ora a muovere il pallone, cerca di entrare lì tra il 22, vantaggio per la colora anche di Romagna. Grazie. Formazione di casa che cercherà i pali, posizione leggermente spostata a destra, appena fuori dai 22. Grazie. Grazie. intanto nelle fila del Romagna un esordio con il numero 17 Buzzone Giacomo sostituisce il numero 5 vai punto discutibile Rugby Romagna che trova una tush dentro la metà campo del Rugby Giacetto il principio avvantante l'amora viene fermata Danielone lavora bene in mezzo alla MOL e quindi la MOL che non avanza cercheranno quindi ancora i falli la squadra di casa per aumentare ulteriormente ulteriormente il vantaggio calcio il calcio Riccardo Soldati di nuovo mette la firma sul 19 a 6 Sostituzione per il Noceto esce il numero 6 Magri Alessandro ed entra il numero 17 e lì Davide lì Davide Tuch per il rugby noceto a ridosso della natacampo, lancia nelle mani i righi, pallone contestato dalla squadra romagnola ma che resta nelle mani del rugby noceto, pallone per Albertini che con una penanda a un'altra metacampo del rugby romano, raccolta al giro del rugby romano la carta da Caritiello, ennesimo calcio della squadra di Dada raccolta al giro del rugby che la scelta a Bladi, pallone per aggruppamento dal giro del rugby romano, finalmente viva un gran pubblico, un gran pubblico, forza Romagna Tuch importante, dobbiamo costruire per cercare la metà, ma dobbiamo cercare la metà di Boccanini, dentro ai 22 del rugby romano, penetrazione di Menichelli, paul eh, ma dobbiamo cercare la metà, scrivono a calcio, non è 0,5, ma dobbiamo cercare la cittadina, mentre la squadra, mantiene a calcio, non è 0,5, ma dobbiamo cercare la metà, non è 0,5, ma dobbiamo cercare la metà, andiamo a calcio, ma dobbiamo cercare la metà, bravo 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 tu spinni per il regno di Naceto ridosso della metà gatto siamo ormai al trentesimo del secondo tempo buona la competenza per Mazzoni che è l'aprea, nega è l'uomo la forza Albertini con il trentesimo del carichello buono spazio per Corte che avanza vengono i 22, servono a sostegno buono sostegno del regno di Naceto pallone spostato a Mazzoni pallone che arriva all'ala pallone che arriva all'ala pallone che viene aperto a Londino siamo dentro ai 22 della squadra romagnola pallone che viene aperto palla a De Maldà dobbiamo cercare di avanzare in un giro e' una in un'esimo fallo nel raggruppamento le regna di Romagna Molto fallosi ora nei raggruppamenti della squadra Romagnola, Albertini cerca e trova la tuscia a 15 metri dalla linea di meta. L'applauso ha sottolineato l'uscita del nostro numero 10 Riccardo Soldati e l'entrata del nostro chat Righi Matteo numero 23. Lancia nelle mani di Righi che trova Marzoni impostata ora una molle. Vediamo se avanza questa molle. La molle che è tardi a ripartire. Calcio di punizione però a favore del rugby non certo. Viene ritrovata e cercata ancora la tuscia. Questa volta dai a ridosso di 5 metri. Buona la tuscia nella mani di buongiorno. Molto avanza fermata in maniera scorretta e quindi adesimo calcio di punizione a favore del rugby noceto. Mol che viene fatta collare. E quindi cartellino giallo per il numero 2 del premio. Giallo per il nostro capitano numero 2 Emanuele Costa. deve sfruttare questa superiorità numerica. Altra tuscia cercata e trovata dal nostro capitano. Quindi lancio dentro ai 5 metri per le mani di Righi appena gli arrivano a correre. Buona la conquista del bonzo. Buongiorno. Impostate una molle. Dai noce! Mol che avanza. E meta! Aspettiamo quindi la trasformazione del nostro medianino negrello. Meta di mischia intanto per il raddino ceto. Vaicale! Vaicale! Se l'ha visto, io non ho visto niente. non trasforma però il numero 9 del grado Alex e quindi il punteggio si ferma sul 19-1 il numero 10 per l'effetto di Romagna il primo calcio di punizione a cuore del re Pinoceto squadra romagnola adesso molto fallosa l'arbitro richiama la squadra di casa che in questo secondo tempo è stata protagonista di diversi calzini forza ragazzi buona la tuscia trovata da Albertini sui 10 della metà campo romagnola dobbiamo sfruttare ora quest'arma che si sta rivelando la molle lancio nelle mani grighi dai diamo bene bene il genio il genio fa velo il calcio di punizione tra l'ora è di Romagna dentro la metà campo del Febby Nuceto tuscia per la squadra di casa siamo più o meno al 35esimo del secondo tempo Molche non avanza della Rugby Romagna che ora apre il pallone trova il pallone tenuto alto tenuto alto second tour 9 il reggbi Nuceto che conquista così il possesso buono la nuova è il placcaggio della squadra ospite quindi mischia fuori dai 22 della squadra ospitana situazione temporanea per la mischia adesso è il numero 7 marchiglia e rientra Diego Leppini grazie a tutti Sì, andiamo, vai! Mischia e vantate del Regno Centro. Faccio di capo il pallone. Meta! Meta! Meta del Romagna con il numero 15, Fiori Mattia! Ma quanta birra, Fiori, dovrai portare? Grazie! 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 Mischia è l'introduzione dell'Occitana. Mischia avanzante per Reggbi Lucetto, Mischia che però tolla, qui in Dio. Grazie a tutti. Mischio che con il Reggio Romagna cerca di perdere tempo e con successo il direttore di gara in questo secondo tempo non è riuscito a prendere molto i reggini della partita. Mischia di Reggio Romagna che gira, calcio di punizione con il Reggio Romagna. Giocata veloce da Reggio Romagna, pallone aperto per Londino che trova per una penetrazione, pallone spostato per Carichiello che rompe il primo placcaggio e macina i metri. Pallone aperto per Londino, pallone aperto per Londino che avanza. Vantaggio per la squadra nocetana. Buona la presentazione di Greco all'ala, macina i metri. Albertini l'alba per Mischielli, Mischielli penetrazione centrale, passaggio in avanti si ritorna sul calcio. Molto scorretti per il secondo tempo. Pallosi, battuti questi due vecini, la squadra di casa, il nesimo calcio di punizione, l'abito, non ha saputo unire adeguatamente questo comportamento. Palloso, si gioca velocemente. Pallone aperto sulla prima volta del giallo. Pallone aperto per Londino. Pallone aperto per Londino. Allora, weiter. Europea Manso Non è sia un rinforzo. Pallone aperto per Londino. Questo giallo di exercita del R Adriano TH… Palloso! Negverso la prima volta del giallo degli Imerdoletti. Nii, cinee! Parắc scompeggio! Pallone aperto per Londino. Pallone aperto per Londino. Pallone Per Nobbo. Pallone resa. Pallone aperto per Londino. ricicla da greco, ma il gioco è stato trammato in precedenza. Sosteniamo la nostra squadra oltre il tempo! Romagna! 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 Romagna!